Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo outfit Quello che state vedendo E andremo a vedere come realizzare questo outfit Allora innanzitutto dovete partire da questo completo Questo o comunque un completo che abbia il pantalone nero ragazzi In maniera tale da poterlo baggare Con la caviglia invisibile e cazzate varie Allora tutti questi che io ho fatto vedere Questi colorati smanicati Sono buoni per fare questo tipo di glitch ragazzi Non quello di pelle ma tutti questi qui da biker Smanicati Come questo rosso Sono adatti per fare questo tipo di glitch Io ho scelto questo rosso Perché è quello che si abbina di più Andremo a vedere insieme Allora a questo punto ragazzi Andate in guanti E mettete i guanti come state vedendo Quelli di San Valentino Allora normalmente non ve li farà mettere Però se mettete questo tipo di smanicato Vi lascerà tenere questi guanti Quindi è abbastanza facile baggare Non è molto difficile Poi andiamo a scarpe Andiamo a mettere le sneakers Con la zeppa Le mettiamo rosse Una volta fatto questo Ci togliamo il cazzo di casco Perché sinceramente Ma un attimo Non ha rotto le palle Ok Una volta tolto il casco Ragazzi Andiamo a salvare tutto E Continuiamo con il resto del glitch Insomma Oddio ragazzi Non c'è nulla di Granché baggato In questo In questo outfit Però E' carino da vedere Almeno a me piace Allora ragazzi Poi andate in bracciali E comprate I bracciali Quelli di cuoio neri Io ce l'ho già comprati Quindi Comunque potete mettere Qualunque tipo di bracciale A vostro gusto Io ho preferito mettere questi Di cuoio neri Quindi vado nel menu inventario Polso destro Polso sinistro E metto I Bracciali neri Come state vedendo Ragazzi Ci vuole un pochino Di tempo Però ci rimettiamo Questi bracciali neri E ok Abbiamo già spezzato Un pochino Il completo Insomma Il discorso Nero rosso E' un completo Milanista Questo ragazzi E' un completo Milanista Per i milanisti Allora Poi mettiamo il giubbotto Antiproiettile E andiamo a salvare Ragazzi In qui Glitch procede Diciamo il glitch L'outfit E' abbastanza semplice Poi Dobbiamo mettere Una maschera Con un casco Antiproiettile Quindi in questo caso Andremo a scegliere Una maschera Potete scegliere Rossa con sfumature bianche Rossa con sfumature nere Ce ne sono svariati tipi Poi A vostro gusto Insomma Io vi do solamente Uno spunto Di quello che potrebbe essere Un outfit carino Per personaggio donna Visto che nessuno Crea outfit carini Per personaggi donna Ogni tanto Ci penso io Portarvelo Quindi ragazzi Io metto Questa maschera Che avete appena visto Questa qui E una volta Che ho messo Questa maschera Andrò a collocare Il casco Scusate Allora A questo punto Per collocare il casco Innanzitutto Continuiamo a salvare Per collocare il casco Dovete mettere In impostazioni Mostra casco sì E dovete impostare Il casco antiproiettile Come casco Di serie della moto Dovete essere Registrati In Cero securo serve E quando siete Registrati in Cero securo serve E sarete Sulla moto Andate stile Insomma Gestione Dovete cambiare Il Il vestito E ritornare Sul vestito Che state mettendo Dopodiché Vi avviate Di corsa Verso la freccettina Insomma Un negozio D'abbigliamento O comunque Verso Le maschere E Avrete L'effetto Che volete Insomma Casco E maschera Allo stesso prezzo Insomma Due al prezzo De uno Una volta Fatto questo Salvate Ve ne andate Al telescopio E manca L'ultima parte Del bug Ragazzi Anche perché Facciamo Buggare Anche gli occhi Mettiamo Una lente rossa Sotto questa maschera Quindi vi avviate Verso il telescopio Premete La freccia destra Come è solito Fare in tutti i bug E Andate a cercare Gli occhiali Io qui Ho mandato pure A pochino In velocità Perché ce n'ho Un casino Dei occhiali Ragazzi Che non trovo mai Quelli che cerco io Poi qua era buio Non se ne deva un cazzo E quindi Niente Comunque Dicevo Questo completo È abbastanza Semplice Da fare Ragazzi Quindi non è Niente di buggato Potete mettere La borsa Potete mettere Quello che cazzo Volete voi Io l'ho preferito Così E l'ho preferito In questi colori Però potete scegliere I guanti Rossi Viola Bianchi Neri Beige Insomma Ce ne sono svariati tipi E potrete creare Il vostro completo A vostro piacimento Magari Con il guanto nero Tutto nero Insomma Potrebbe essere Un po' più carino In base Al vostro gusto Detto questo Ragazzi Spero che il completo Vi piaccia Spero che Lo farete Spero che Mi lascerete Qualche like Se vi farà piacere Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video